Il tuo weekend a Napoli, lei è venuta a trovarmi da Milano, per cui abbiamo approfittato il Ponte Lungo per vivere la città. Com'è ritornare a Napoli? Meraviglioso, meraviglioso. Com'è ritornare al mare? Fantastico, tra l'altro lunedì faremo una giornata smart working, vista mare, per cui sarà bello, bello. A Napoli, per ora non abbiamo visto molto, abbiamo mangiato la pizza, buona. Avete pensato quindi di visitare la città, niente mare, nonostante le decorature? Sì, perché io almeno non ero mai stata a Napoli, quindi volevamo fare un giro in centro, vedere le cose principali. Siete qui in vacanza? Sì. Da quanto tempo siete arrivati qui? Io da due giorni, l'altro ieri, sono arrivata e tornerò lunedì a Milano. Come ti è sembrata la città? Molto molto bella, molto molto viva e mi ha colpito. Oggi avete visitato la città o avete preferito il mare? Abbiamo fatto la città e adesso siamo venuti un po' al mare. Come ti è sembrato? Bellissimo, veramente stupendo, ottima vista col Vesuvio davanti, una meraviglia.